Mondiale di Push e Pull, due atleti di Chiaravalle Centrale, alla fase finale. Si sono concluse le qualifiche per il Mondiale Push e Pull tenutesi a Monza, qualificati due atleti calabresi precisamente di Chiaravalle Centrale per il Mondiale che si terrà a dicembre. La Push e Pull è una gara in cui vince chi solleva il maggior peso possibile in termini di chilogrammi su una singola ripetizione. Le prove sono due, trazioni alla sbarra e dip alle parallele. Vince l'atleta con la somma più alta di chilogrammi sulle due alzate. Andrea Mantello e Diego Macri si allenano nel movimento gym di Chiaravalle Centrale e sono rispettivamente coach e allievo. Entrambi hanno portato a casa un primo posto assoluto alle qualifiche nazionali, organizzate da Streetlifting Italia, mentre a dicembre li vedremo impegnati nel campionato mondiale ISF. Realtà di questo tipo sono sicuramente un vanto per i nostri territori che vantano eccellenze sportive spesso emigrate al nord Italia. Avere una realtà locale di questo livello è qualcosa da esaltare e aspettiamo i risultati del Mondiale.